E il ricordo della più grande ballerina italiana Carla Fracci, un gran galà di Etual a Cervia. La grazia e l'eleganza della danza, una vita passata sulle punte. Carla Fracci e l'Etual per eccellenza, una leggenda straordinaria. Ha incantato il mondo intero, rimanendo però sempre umile. In suo onore, a tre mesi esatti dalla scomparsa, a Cervia si sono riuniti interpreti internazionali, in un galà emozionante tra musica e danza, ideato dal ballerino Cledi. Quando finiva sempre la lezione di danza, lei diceva ragazzi, oggi siete cresciuti di un giorno. Anche se la danza è sempre, insomma, quella disciplina che bisogna studiarla ogni giorno, costante, e diceva oggi siete un po' più grandi. Phil Rouge della serata, gli insegnamenti di Carla Fracci. La vita di Carla può dare dei consigli a tante, tante, tante donne, consigli di comportamento. Seguirmi qua, soprattutto in onore di Carla, ho un peso addosso. Radio Subasio.